Ciao a tutte, oggi sono qui per annunciarvi il video del mio quinto giveaway, questa volta però il giveaway non è fatto da parte mia, il pensierino che vedrete non è da parte mia, ma è stato sponsorizzato dal sito latuamoda.it, che è questo, è un sito di shopping online in cui potete acquistare borsi e accessori vari, vi consiglio di visitarlo perché è molto ricco di prodotti e per voi ha messo in palio un orologio della linea Chrono Time, la confezione è questa e l'orologio è questo qua, che ho scelto io per voi, uno di quelli lì a braccialetto con i pendenti ora ve lo faccio vedere meglio allora l'orologio è questo qua i pendenti sono dei lucchetti con delle chiavi molto particolari, tutte diverse l'una dall'altra il colore è oro e il quadrante è nero io ho tolto delle maglie perché ovviamente questo qua che vi sto facendo vedere non sarà quello che sarà inviato a voi questo è il mio, il vostro ve lo invierà direttamente il sito latuamoda e quindi ho tolto le maglie superflue perché ha anche questo simpatico aggancio che vi permette di eliminare le maglie senza dover andare in un negozio di orologi adesso ve lo faccio vedere anche indossato ho pensato che come modello fosse abbastanza universale sta andando tantissimo di moda adesso eccolo qui guardate com'è carino e vado altissimo adesso di moda questi orologi a braccialetto insomma con tutti i pendenti a me è piaciuto tantissimo e spero che piaccia anche a voi le regole per partecipare sono semplicissime basterà come al solito essere iscritti al mio canale basterà andare sul sito latuamoda.it di cui vi lascerò poi tutti i link sotto quindi mi raccomando leggete bene il box e bisognerà essere iscritti alla loro newsletter ed infine mettere mi piace alla loro pagina su facebook vi lascio tutto sotto non vi preoccupate alla fine per partecipare basterà lasciare un solo commento a persona in cui mi dovrete scrivere quale tra tutti i miei tutorial e tutti i miei video è stato il vostro preferito in modo che io possa un pochino regolarmi e capire insomma quali sono i vostri gusti il giveaway durerà 10 giorni a partire da oggi quindi il decimo giorno, l'ultimo giorno a sorpresa come al solito io cesserò i commenti e ovviamente l'estrazione avverrà con random.org e poi cosa dirvi più nulla ragazze poi per il resto io alla fine quando effettuerò l'estrazione una volta che avrò scoperto il nome della vincitrice la contatterò io tramite messaggio privato mi farò indicare da lei il nome del suo indirizzo email che ha utilizzato per la registrazione alla newsletter del loro sito in modo che loro potranno confermare insomma la sua iscrizione nel momento in cui l'avranno confermata io pubblicherò il video di estrazione e quindi il nome della vincitrice in modo da poterlo ufficializzare e farlo vedere come al solito a tutti voi e nulla ragazze in bocca al lupo a tutte spero che parteciperete ringrazio il sito la sua moda.it per aver sponsorizzato questo giveaway e nulla ci vediamo al prossimo video un bacio ciao